Ciao a tutti amici della Vergine, benvenuti ai nuovi e bentornati agli iscritti. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, chakra, spiritualità e quant'altro posso aiutare ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Quello che vedremo oggi sono le tendenze energetiche e affettive per la prima parte di aprile 2022, a metà mese poi pubblicherò la seconda parte dell'oroscopo. Come dico sempre sono letture fatte per un collettivo, quindi prendete solo i messaggi che vi servono e lasciate andare il resto all'universo. Se poi volete avere un messaggio più completo potete anche ascoltare il vostro ascendente o il vostro segno lunare. In descrizione poi trovate il link ad un video che spiega proprio come mettere insieme il messaggio di questi tre oroscopi e trovate anche la mia mail nel caso vogliate contattarmi. Bene, mostrami Vergine, tendenze energetiche affettive per la prima parte di aprile 2000, grazie. Il Chirofante, ovvero il Papa. Amici della Vergine, il Papa ha sempre un po' questa energia spirituale, no? E qualche cosa mi dice che state diventando un po' più consapevoli, un po' più consci, un po' più, come vi posso dire, spirituali per certi argomenti o per quello che riguarda una determinata situazione. In molti casi il Papa fa anche riferimento a quello che potrebbe essere una celebrazione, un'ufficializzazione e potrebbe anche parlare di quello che è un riconoscimento da un punto di vista della società. Gli angeli del cuore dicono risolvi le questioni familiari, perdoni i tuoi genitori e la tua vita amorosa ne trarrà giovamento. Quindi potrebbe essere un qualche cosa appunto inerente. Mi parlano di fratelli però, o famiglia anche per qualcun altro, perché qui parla di genitori, a me parlano di fratelli. Ognuno lo applichi alla propria realtà. E poi qui abbiamo conversazioni sincere. Esprimete onestamente l'uno all'altro i vostri sentimenti. Quindi si può trattarsi magari di qualcuno di questi genitori, di questi fratelli di cui abbiamo visto prima, con il quale o la quale magari dobbiate affrontare delle conversazioni sincere. O magari ci sia un qualche tipo di, diciamo così, riconoscimento sociale, come diceva il Papa, di cui si deve parlare o di cui si deve portare alla luce, insomma. Andiamo a vedere se non è un matrimonio, perché come dicevo prima il Papa potrebbe parlare anche di matrimonio, o potrebbe fare riferimento anche magari a una convivenza, ok? A quello che è un, diciamo, qualcosa di riconosciuto. Cominciamo subito con la carta del matto, che è un arcano numero zero, quindi quello che sento è che ci si prepara a chiudere un ciclo, guardate un dieci di denari, un'altra carta di chiusura ciclo. Il dieci di denari è una carta molto bella, è una carta che parla di abbondanza economica, che parla di appagamento, che parla di compimento, proprio di riuscita. Abbiamo poi un cavaliere di coppe, un asso di bastoni, e qui sento che questo cavaliere di coppe girato al contrario, scusate, fante di coppe, girato al contrario, mi fa pensare che qualcuno probabilmente... Allora, la prima cosa che ho sentito è che non si vogliono figli, non si vorrebbero perlomeno figli, o non si vuole un qualche tipo di atteggiamento emotivamente infantile, ok? E vi dico, c'è comunque un matto all'inizio. Il matto è la carta che parla proprio di quello che è l'impulsività, ok? Quindi probabilmente c'è stato questo tipo di azione che ha portato a questo, dieci di denari, ma ci si rende conto che forse, insomma, è stato un po' troppo avventata la cosa. E in effetti adesso, avendo l'asso di spade in questa posizione, c'è una sorta di... Vado avanti o non vado avanti? Cosa faccio? Inizio o non inizio? Mi vedo con questa persona o non mi vedo con questa persona? Faccio questo passo o no? Andiamo a vedere che altro vi dicono. Allora, abbiamo un re di spade e un sei di bastoni. Probabilmente in tutta questa faccenda il re di spade potrebbe rappresentare una persona che magari non vi appoggia tanto o potrebbe rappresentare il fatto che voi abbiate una sorta di confusione mentale. Il re di spade potrebbe appunto anche essere magari la persona con la quale avete la relazione in questo momento e sento che probabilmente non vi troverete tanto magari sulla stessa lunghezza d'onda in un certo periodo di questa situazione, ok? Però comunque c'è poi il sei di spade. Il sei di spade mi parla comunque di quello che è un riconoscimento, quindi ritorniamo all'energia del Papa, all'energia del Chirofante. Quindi in qualche modo un riconoscimento dall'esterno, queste sono troppe, arriva. Anche se magari non nell'immediato vi devo dire. Terminiamo poi con un 4 di coppe e con la temperanza. Quindi ecco, forse il 4 di coppe vi deve fare un attimino pensare al fatto che prima di... come vi posso dire? A parte che sento qualcuno che ha questa sensazione, questa paura di essere recitato magari dalla famiglia per quello che è questo vostro nuovo inizio, insomma, ha a che fare sicuramente con la famiglia. Però dicevo, con questo 4 di coppe quello che sento è che qualcuno ha paura di essere rifiutato. Per qualcun altro invece è come il non vedere le opportunità che già avete. Cioè è un po' come lamentarsi di avere sete stando immersi nell'acqua, no? Per farvi capire. Perché comunque se di bastone c'è il Chirofante anche, quindi questo passo, questo riconoscimento arriva. E difatti poi comunque il periodo finisce con la temperanza. La temperanza parla di equilibrio, parla di guarigione, parla di quello che è mettere proprio in equilibrio gli opposti. Quindi è una bella carta, diciamo, per finire per finire una stesa, ok? Allora, andiamo a vedere il matto. Per piacere, grazie, abbiamo un sette di coppe. Sì, probabilmente fa riferimento a quello che è una sorta di impulsività in quello che è l'agire, no? Questo matto, questo nuovo ciclo, un po' iniziato, come dicevamo prima, forse in modo un po' impulsivo per quello che sono state le possibilità proposte o quelle che potevano essere le illusioni proposte, diciamo così, perché essendoci poi anche la carta del diavolo, sento che non è stato proprio un inizio, diciamo così, di tipo cristallino. Potrebbe essere stato qualche cosa magari un po' controllato, un po'... C'è il quattro di pentacoli che mi parla di una sorta di attaccamento a qualcosa o a qualcuno, vedendo il diavolo, guardate, è come se ci fosse una sorta di condizionamento, sento. Può essere per qualcuno che risuoni come una questione economica all'interno della famiglia. Magari c'è una questione economica in ballo che, così, diciamo, come vi posso dire, fa un po' tremare gli equilibri esistenti in famiglia. Andiamo a vedere il dieci di pentacoli. Abbiamo un sei di bastoni, ce l'avevate anche qui, e un asso di dena, e un asso di spade, quindi io qui sento che c'è questa riuscita, c'è questo compimento, c'è questo successo, c'è la, mi verrebbe da dire, la verbalizzazione di questo successo. È come se avesse la comunicazione. Probabilmente qui è come se o qualcuno, come vi posso dire, o avete fissato la data delle nozze, visto che c'è anche comunque il papa, o comunque ci sono dei movimenti per magari andare a convivere, o per rendere questo matto, diciamo, un po' più stabile, un po' più concreto, come dice il dieci di denari. Andiamo a vedere perché c'è questo fante di coppe, abbiamo un otto di coppe e un nove di coppe. Qui può essere che qualcuno abbia voglia di andare verso magari mete lontane per raggiungere la propria felicità, il proprio appagamento, mi verrebbe da dire, il proprio appagamento emotivo, ok? È come proprio se bisognasse andare alla ricerca di questo nove di coppe, di questo appagamento emotivo, e probabilmente per quello che c'è questa non piena convinzione. Io credo che qualcuno qui sia convinto che se ne deve andare con questo otto di coppe. Poi può anche voler dire che si sta facendo un qualche tipo di lavoro interiore, perché comunque è la stessa carta, è la stessa energia dell'eremita, parla proprio del lavoro interiore, ok? Andiamo a vedere l'asso di bastoni, abbiamo la stella al contrario, un quattro di bastoni e un otto di denari. E come se qui non ci fosse più la speranza, non ci fosse più, ci si fosse un pochettino disillusi per quello che riguarda il muoversi, l'agire, proprio inerente a quello che potrebbe essere una situazione di una casa, di un lavoro o di un qualche situazione economica comunque del magari riuscire a creare una casa o andare a vivere insieme o la casa prima di sposarsi. Se non, anche senza andare troppo in là, nel senso, magari siete appena all'inizio di una storia, di una relazione con qualcuno, no? E sento che però voi non vedete, cioè è come se deste solo un tot e non tutto quello che potreste in realtà dare, perché siete convinti che con questa persona non c'è speranza di mettere su qualcosa di serio, diciamo. Ok, andiamo a vedere il re di spade. Ruote della fortuna e asso di denari. Al contrario. Questo re di spade non ne vuole proprio sapere. Allora, potrebbe rappresentare qualcuno, come vi dicevo, che magari fa un po' orecchie da mercante o potrebbe rappresentare il fatto che siete ancora in questa fase di non-azione perché fondamentalmente avete una sorta di confusione mentale. Non avete bene in testa quale sia la prima mossa da fare, quale sia il primo, cioè dove sia giusto fare il primo passo, insomma. E comunque la ruota della fortuna c'è, però è al contrario. Come se fosse ancora un po' presto. Andiamo a vedere il 6 di bastoni. Grazie. Abbiamo un 4 di spade. Un 6. Wow. 6 di coppe. Al contrario. E gli amanti. Al contrario. Di nuovo. Anche la stella era al contrario. Quindi per certi versi è come se avesse avesse perso le speranze di vivere. Scusate, oggi mi impappino parecchio. È come se aveste perso le speranze di poter vivere un sogno. Il vostro sogno di poter avere una famiglia felice, di poter avere una vita felice mi verrebbe da dire, completa, piena. Però abbiamo un 6 di bastoni. Quindi anche se voi un po' le speranze le avete perse, io sento che potreste fare un qualche tipo di lavoro sull'amor proprio. Ok? E direi anche sul fanciullo interiore. perché c'è un qualche tipo di ferita io credo lì. Andiamo a vedere il 4 di... Wow! Abbiamo l'appeso e il 9 di pentacoli. Sì, è sempre una questione di indipendenza. E di nuovo sento qui la questione casa, famiglia. Sì, comunque guardate, il fatto è che probabilmente state pensando perché giustamente non avete un'idea molto chiara, abbiamo visto qui. Ed è per quello che qui c'è l'appeso. L'appeso parla proprio del guardare le cose da un altro punto di vista. Anche proprio a livello del quello che ho conquistato io, quello che è mio, quello che mi posso godere. io sono indipendente fino a che punto perché comunque voi vi dico che qualcuno sta aspettando un aiuto esterno. Però voi avete tutte le possibilità, eh. Andiamo a vedere la temperanza. Avete tutta la possibilità di sentirvi indipendenti, autonomi in questa scelta, in questa decisione del se muovervi o no. Se iniziare qualcosa di concreto o no. allora abbiamo il 5 di di spada al contrario e il mondo al contrario. Qualcosa mi dice che i conflitti cessano dentro voi stessi. Probabilmente perché si fa quel lavoro di cui parlavamo prima dell'amor proprio. Però è come se l'appeso servirà, diciamo, perché avere il mondo al contrario vi permette di fare quel tipo di riflessioni che vi permetteranno di vedere le cose da un altro punto di vista, togliervi quelli che sono i pensieri, trovare un vostro equilibrio interiore senza necessariamente cambiare le cose. Che poi alla fine, guardate, io vedo di nuovo questa conversazione sincera. Si tratta davvero di parlare col cuore aperto e cercare di trovare quello che è se vogliamo una soluzione comune, un qualche tipo di compromesso dove tutti vincono, dove tutti sono felici poi. Ok, amici della Vergine, andiamo a vedere conscio e inconscio con i tarocchi di Osho quello che si vede e quello che non si vede. Io intanto vi ricordo che se volete supportare il canale potete mettere un like al video, potete iscrivervi, potete condividere e commentare. Io non riesco a rispondere sempre a tutti i commenti però li leggo. Ok, allora abbiamo la coscienza per gli amici della Vergine che è un bell'arcano maggiore del carro. Andiamo a vedere che cosa invece tenete nascosto. La morale. E in effetti avete anche il Papa qui. Ha a che vedere anche con quello con la morale con il che cosa dice la gente quella cosa lì. Allora quello che voi state vedendo quello di cui vi state rendendo conto è che dovete prendere una direzione dovete fare una scelta. La coscienza vuol dire proprio che state prendendo coscienza di come sono le cose. State diciamo così rompendo quello che è il velo dell'illusione. Ok, state prendendo consapevolezza di quello che si dovrebbe fare. Essendo la carta del carro vi ricordo che parla di prendere una direzione, di prendere una decisione diciamo così. Quello che non vedete sotto è la morale. Probabilmente avete qualche tipo di rigidità. Se vedete bene la figura ha proprio delle sbarre come se ci fosse una sorta di prigione e il condizionamento del diavolo me la ricorda un po' in questo senso. Quindi può essere che ci sia un qualche tipo di società o ambiente magari in cui vi state confrontando che ho qualche idea perché potrebbero anche essere semplicemente delle credenze limitanti che comunque vi stanno impedendo di progredire diciamo così. Sento che è una rigidità che avete e che diciamo così non so quanto vi serva rigida così. Potrebbe anche essere ora di lasciarsi andare di come dire di sciogliervi sì. Andiamo a vedere ancora un messaggio da parte di questi oracoli per chiudere la lettura. La farfalla bellissima carta. Guardate dice che la relazione sta evolvendo alla fase successiva. Guardate io vi dico ok se arrivano gli anelli voglio almeno almeno i confetti non dico l'invito ma almeno i confetti. e poi parlano di quello che è il bambino interiore e dicono che è ora di guarire il bambino interiore quindi le paure le mancanze d'amore è ora di fare quello che è un lavoro anche proprio a livello spirituale come dice il Papa per cercare di riempire quei vuoti diciamo così che abbiamo accumulato durante l'infanzia durante la nostra vita insomma questa carta parla anche di crescita ed essendo una farfalla comunque fa riferimento a quello che è la trasformazione nella vita amici della Vergine questo è quello che avevo per voi spero che la lettura vi possa essere stata d'aiuto io vi ringrazio per il tempo che avete trascorso qui con me vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video ciao ciao